L'esperto Neil Sean ha detto che le apparizioni televisive di Harry e Meghan sembrano cattivi e trash mentre altri reali sono applauditi per simili e i Sussex affermano che sono doppi standard. Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero furiosi per i doppi standard all'interno della famiglia reale sulla base dei contraccolpi che hanno avuto dalle recenti apparizioni televisive, ha detto un esperto. Secondo quanto riferito, il duca e la duchessa del Sussex stanno lottando per capire la differenza tra le loro iniziative mediatiche e quella di altri membri della famiglia reale. Il corrispondente di Fox News Royal Neil Sean ha dichiarato sul suo canale YouTube, secondo un'ottima fonte a Montecito, e come sempre diciamo presumibilmente, In pratica Meghan e Harry non riescono a capire la differenza tra quello che hanno fatto con Helen, in particolare, sai, quando il principe Harry si stava prendendo gioco dell'abito arancione, cercando di promuovere gli Invictus Games. Qual è la differenza? Stanno solo mostrando un lato divertente, cercando di commercializzarsi e, naturalmente, far decollare i loro progetti. Non sono reali, quindi che differenza fa? Quindi sottolinea l'imminente apparizione del principe Carlo e Camilla nella popolare sopopera EastEnders per il Platinum Jubilee Street Party e ha spiegato l'accoglienza del pubblico. Beh c'è una grande differenza se ci pensi, continua Neil, loro, Charles e Camilla, non lo fanno per soldi, lo fanno fondamentalmente per aumentare il profilo e mostrare un lato divertente. Soprattutto, non ci sono commissioni alla fine, ora la squadra di Harry e Meghan, come sempre, è molto veloce, come abbiamo sempre dovuto dire, nel minimizzare le cose divertenti che la monarchia britannica sta facendo.